... ... questa non è una tesana qualunque non l'indovinaresti mai dove l'ho comprata hai presente quel negozietto che... ti ho chiesto se a letto con tuo marito tutto bene Sei da solo? Cessere, ma sei pazzo? Una società che non ristecca gli anziani è una società destinata a fallire miseramente Grazie Grazie